Amici del canale Emerod, oggi voglio fare un esperimento Voglio utilizzare un comunissimo foglio di carta, un A4 come questo, vedete Toglia molto bene E voglio utilizzare questo oggetto di morte, è un flessibile, questo gira Questo vi taglia letteralmente un dito E voglio combinare questi due oggetti insieme E voglio vedere fin dove arrivo, nel senso Voglio costruire un disco di carta Da poter applicare direttamente sul disco E vedere cosa riesco a tagliare Secondo me non riesco a tagliare molto, c'è soltanto un modo Proviamolo Grazie a tutti 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 Incredibile Quindi se vi è piaciuto questo video vi invito a sottoscrivervi qua al canale E se raggiungiamo mille like cerchiamo di tagliare qualcos'altro nella prossima puntata Va bene? Vi aspetto, ciao a tutti Grazie a tutti